Un angolo bio molto particolare, quello aperto nel luglio del 2013, attivo quindi da poco più di un anno nel quartiere di San Polo a Brescia. Una scommessa in tutti i sensi per la cooperativa che l'ha creato, la prima infatti è quella di promuovere ulteriormente la cultura del bio, la seconda è farlo in un quartiere come San Polo, zona periferica della città e quindi uscire da una concezione di città che ruota solo intorno al centro storico, ma che deve essere vissuta anche nei quartieri e confini della città stessa. La terza è forse la più importante di tutti, è quella che riguarda l'inserimento in questo laboratorio artigianale di una particolare categoria di persone. Abbiamo fatto una scommessa, la scommessa di portare prodotti biologici per dare appunto cultura e dignità al lavoro a persone in particolare detenuti su questo progetto. A trovare lavoro al biostore Armonia dunque tra ospiti del carcere di Verziano in regime di semi libertà. Il concetto della funzione reeducativa della pena combinata a chi ha commesso degli errori si basa proprio sul principio che una persona detenuta attraverso il lavoro possa così riuscire a trovare di nuovo una dignità. E un mestiere manuale come quello della produzione del pane che viene definito dalla presidente della cooperativa Seramondi come una vera e propria fonte di vita è il mezzo ideale per arrivare a questo fine. Il cuore pulsante dell'armonia non è però visibile agli occhi dei visitatori e degli avventori che possono invece godere e gustare il risultato dei prodotti presenti in negozio. Sì abbiamo aperto questo bar panetteria con negozio ma la peculiarità sono i prodotti da forno realizzati dal nostro personale nel quale occupiamo detenuti semi liberi. Non solo pane dunque ma anche pizze, focacce, brioche e torte una vasta gamma di prodotti tutti realizzati con farina biologica per offrire agli avventori una modalità di alimentazione decisamente più sana. All'interno di questo luogo però si può trovare un po' di tutto dai detersivi alla frutta alla verdura? Sì i prodotti sono sia alimentari e non tutti col principio appunto del biologico e attenzione all'ambiente per cui anche molti prodotti sfusi per risparmiare sull'impatto ambientale per le confezioni. Forneria, piccolo market del bio ma anche bar e tavola calda con 34 posti e sedere per dare un servizio a 360 gradi ai clienti offrendo anche pranze di lavoro bio ed economici a chi lavora in zona. A pranzo facciamo dei menu biologici interamente, sempre un primo caldo oppure focacce farcite, panini, verdure, chi più ne ha più ne metta.